Per chi non ci conosce, siamo un'associazione di magistrati nata alcuni anni fa come gruppo di studio, abbastanza presto trasformata in un'associazione, avente ancora per oggetto gli stessi studi, cioè sull'insolvenza all'inizio delle imprese e abbastanza velocemente anche dei soggetti diversi dalle imprese, quindi i privati e le famiglie, con un'esigenza metodologica di chiarire a noi stessi l'oggetto reale delle nostre attività di interpretazione e quindi da qui l'incrocio, il primo incrocio abbastanza significativo con competenti, quindi esperti di altre discipline, in primo luogo gli economisti. Ha macinato molto questa attività attraverso convegni, elaborazioni scritte, il sito, la massimazione della giurisprudenza di merito. L'insoddisfazione, che è anche poi una molla parallela all'ambizione, è stata quella che ci ha condotto a investigare al di fuori del nostro domenio, del nostro territorio, spingendosi un po' al suo perimetro delimitativo. Da qui una sperimentazione nel 2012, chiamata come è il festival che ci ospita in questi giorni, un po' provocatoriamente, ancora a fianco di una manifestazione tradizionale, poi Ferrara per tre anni e adesso, e quindi per la settima volta, in assoluto a Bologna. Che cosa ci contraddistingue in questa offerta culturale, che è un tentativo di coinvolgimento, di portare fuori il nostro linguaggio, di sentire che i tecnici hanno necessità di farsi ascoltare anche con strumenti diversi? Un convincimento di fondo, che viviamo in più società del debito, contestualmente. Di qui lo studio delle matrici dei debiti, che il diritto fa imparare, qui ci sono molti professori, quindi immagino che segneranno già il primo errore, ma che il diritto fa imparare come matrici essenzialmente fondate sulla volontà, quindi su un'assunzione dipendente da consapevolezze, quindi scelte determinabili da parte dell'individuo, ovvero delle organizzazioni o anche degli stati, ma che l'esperienza attesta come in realtà rinvenga altrettante fonti nella involontarietà. Oltre che, lo accennavo, nel pluralismo delle appartenenze. Ciascuno di noi fa parte di più società contestualmente nel suo agire sociale, fa parte di più relazioni anche nel suo agire pre-sociale o affettivo, e il paradigma della volontarietà, pur non essendo certo al tramonto, è un paradigma che si aggiunge rispetto ad altri fonti meno volontari e con le quali si diventa pure debitori. Trapelava già dagli interessanti interventi dei due assessori che ci hanno preceduto questa consapevolezza. Siamo infatti fieri di avere l'anno scorso affrontato un po' in solitudine, ma con un buon investimento in termini di tempo e di risorse e di competenze, il tema della ludopatia, mettendo a confronto un pubblico ministero della Procura Generale della Corte di Cassazione e una psicoterapeuta di Bologna, apparentemente due specie non assortibili all'interno di un qualche genere di compatibilità, ed invece con un frutto innanzitutto informativo molto prezioso, lo Stato non ci guadagna, le amministrazioni locali non ci guadagnano, perché non solo in termini finanziari, come abbiamo detto l'anno scorso, la crescita di incassi è in gran parte devoluta ai gestori, ma non ritorna sotto forma di fiscalità indiretta allo Stato, ma i costi di perdita di patrimoni, ma soprattutto di intelligenze, che la ludopatia sia nei settori in cui abbiamo indagato, giovanile sia quello non giovanile, determina, sono ingenti ed è una perdita irreparabile per tutta la società. Vedrete nella mappa di quest'anno altri temi sui quali contiamo di arrivare un po' in anticipo rispetto al dibattito pubblico, ma ci fa solo piacere che questo dibattito pubblico poi sia ripreso, razionalizzato, da un punto di vista amministrativo, canalizzato in vere e proprie decisioni, alcune delle quali sono state dall'assessora Zaccaria anche ricordate, e su altre cercherò di ricollegarmi a quanto è stato oggetto di cenno da parte dell'altro assessore, il dottore Lombardo. Il debito poi cos'è? Nell'immaginario collettivo di ciascuno di noi, anche se non ha fatto studi giuridici, è un impegno che si assume nel presente, e parlo con un linguaggio volutamente del tutto a tecnico, di quote rilevanti delle proprie risorse, che siano energie, che siano tempo, ma risorse future. E anche di quelle altrui, va detto. E proprio l'appartenenza, appena nasciamo ad una comunità, ci rende debitore, l'abbiamo visto in altre occasioni, e vale la pena ripeterlo. Impegni pubblici che concernono il suolo, che concernono la finanza adottata dalla comunità territoriale in cui veniamo al mondo, oggi, per il futuro, significano destini determinati per coloro che verranno dopo che i decisori hanno assunto quelle particolari scelte. E si potranno tradurre, se le scelte sono sbagliate, cattivo uso del suolo, per esempio, o cattivo uso di altre risorse pubbliche, in minore disponibilità di scelta di risorse, in minori servizi, in minori libertà. E quindi in debiti che si vanno a contrarre per il proprio benessere. Ovvero, determineranno le condizioni di un'altra grande e affascinante matrice dell'involontarietà, la nascita di una condizione creditoria, del tutto involontaria. Un ponte che viene giù fa nascere moltissimi creditori. E come abbiamo imparato a riconoscere, sì, da quattro edizioni fa, in cui, tre edizioni fa, in cui chiamammo a discutere il leader degli azzerati di una cassa di risparmio emiliana, la Carife, con un professore e poi con un giornalista, in quel caso la corrente di simpatia che si percepiva anche all'interno del pubblico era verso un soggetto che era un creditore, laddove normalmente le correnti di empatia si formano maggiormente, si accumulano con i debitori. Come vedete, uno studio un po' più materialistico, nobilmente materialistico, delle condizioni di vita e delle prospettive di chi incappa in accidenti involontari, che ne cambiano il ruolo, ci porta indifferentemente a simpatizzare e quindi ad accostarci in modo più curioso o verso debitori, o come in questo caso anche nei confronti di creditori. Così come l'involontarietà che concerna il mondo dei creditori determina prospettive di adempimento dei danni che vantano un credito al risarcimento del danno, ma è una prospettiva differita, eventuale, parziale. Così come il prezzo del dolore, l'abbiamo visto in questi due mesi, non restaura alcuna infelicità. La nostra ambizione è di costruire ogni volta una mappa aggiornata di questi punti in cui si concentra l'indebitamento, ma prestando attenzione anche a quei punti che si desertificano, in cui non vale più la pena investire nel poco tempo di studio o di riflessione perché sono luoghi di minore indebitamento o di minore nascita della condizione creditori. La rete relazionale del 2018 ci ha fatto scegliere e quindi assortire due circuiti che abbiamo ritenuto necessari. La moneta e la responsabilità. Sulla moneta, che è oggetto di dibattito pubblico nel nostro Paese e non solo, ma comunque nel nostro Paese da tempo, ci siamo detti ricominciamo da capo. Ricominciamo da capo chiedendoci insieme a filosofi, ad economisti, a giornalisti e anche ovviamente a giuristi, a letterati, cos'è il danaro. inteso come locuzione valoriale, laddove la moneta, lo vedremo fra qualche minuto, ne è un esempio storico. Quindi impariamo già a distinguere tra l'uno e l'altro. La moneta ne è un esempio storico e quindi, come tutti gli esempi storici, deve essere sottoposta ad un interrogativo della sua eventuale limitatezza di carattere temporale. Come è stata superata la società del baratto verso le economie dello scambio, potrà esistere, ce lo chiederemo fra qualche minuto, è una domanda, un'economia post monetaria e per quali intrecci, per quali intrecci di poteri statuali, di PIL nazionali o di PIL di distretti plurinazionali o di fatturati ambientali che quindi comprendono anche l'utilizzo delle risorse lavorative, degli spazi fisici, dei beni movimentati, non solo degli incassi, di imprese e di gruppi multinazionali si determina il valore di scambio delle merci insieme alla intermediazione della moneta, come si accumula la moneta. Ecco, in un'epoca, come ripeto, di grandi discussioni sulla sua utilità, il diritto statuale rivela anche la sua fragilità. Ieri verificavo il dollaro USA vale 248 mila, mi sono appuntato, 520, Bolivar, ho detto in altri termini, un milione di Bolivar vale 3,53 euro. Se io lo vado a scambiare dentro quel paese, mi trovo un diritto statuale, quindi di potere sul territorio, che mi impone un altro cambio diverso, maggiore rispetto a quello che ho raccontato, ma in tutto il mondo sono questi i cambi che contano per quella moneta. Altre monete sono pegged, sono in qualche modo ancorate al dollaro sulla base di scelti fra stati, quindi qui già andiamo su un tema che riguarda le convenzioni tra state, come noi in Italia abbiamo un valore degli euro battuti in San Marino e Vaticano che è esattamente identico a quello italiano. Allora siamo detti vale la pena affrontarne i fondamenti, affrontarne del danaro e il rapporto con la ricchezza degli stati e delle persone. L'abbiamo fatto come anche sull'altro tema in che modo? Ingaggiando degli esperti. Spesso ci capita anche mediaticamente già molto noti ed efficaci, ma anteponendo nella scelta ed è di questo di cui siamo anche abbastanza orgogliosi, la continuità di studio e quindi la grinta nell'osservazione tecnica che porta questi nostri ospiti a continuare a farsi delle domande e spesso ad interagire con il diritto quando giuristi di formazione non sono perché riteniamo che in questo modo i tecnici delle regole e quindi i tecnici per esempio degli ordini professionali che con noi in magistratura hanno contribuito e che ringrazio ovviamente ma non di maniera a rendere possibile anche queste edizioni i dottori commercialisti i avvocati e i consulenti del lavoro i tecnici delle regole riescono a contribuire alla formazione dell'opinione pubblica non semplicemente rinviando al proprio sistema o al proprio sottosistema che è certamente specialistico ma alimentando un continuo circuito di legittimazione istituzionale che è il fondamento insieme alla democrazia partecipativa anche di una democrazia dell'opinione pubblica che altrimenti è lasciato alla mera dimensione di utilizzo della tecnologia per segnalare i propri pensieri e comunicarli è un percorso difficile ci fa piacere che le iscrizioni e le presenze siano così significative da un punto di vista quantizzativo questo vuol dire che forse stiamo arrivando anche noi non solo noi ma anche noi a far capire che di temi complessi si deve parlare con la corrispondente preparazione ma non per distanziare i non tecnici ma proprio per acquisire un diverso ruolo della funzione informativa e poi di ciascuno di noi da cittadino a tecnico del diritto o nella giurisdizione decisore l'altro polo di attenzione concerne i limiti del credito risarcitorio quindi le nuove incertezze che si stanno determinando non solo nel nostro ordinamento sulle tipologie di rimedio a fronte dei pregiudizi che ciascuno di noi o nelle organizzazioni in cui vive o negli stati di cui parte ritiene di essere stato vittima o anche le dimensioni dell'intervento posteriore ai fatti determinativi del danno e quindi indagare un po' più da vicino il fascino mi permetto di dire questo che la punizione e uso un termine che salta chili di dibattito il fascino della punizione privata o meno che sia che comunque c'è nell'obbligo a risarcire un danno quando assuma dei risultati redistributivi se davvero si fonda su parametri che sono variati in questi anni e questo è un ragionamento un po' più ampio che permette attraverso alcuni interlocutori di grande valore di rivedere cogliendo le linee di tendenza del diritto delle norme e del diritto dell'applicazione e anche del sentire comune che lega l'uno e l'altra quali sono gli interessi gli assetti di interessi sia patrimoniali che non patrimoniali proprio delle persone dell'organizzazione delle comunità che siano davvero se lesi fonte di pregiudizio che quindi siano in grado di interessare il diritto in qualche misura in una prospettiva indennizzabile o risarcibile e va anche detto che se per alcuni fenomeni la dimensione risarcitoria costituisce un punto di arrivo di una lunga evoluzione del concetto di straordinarietà e quello di tutela dovuta per altri ambiti si pone esattamente l'interrogativo opposto e cioè è moderna una dismissione un'attenuazione della prospettiva risarcitoria se noi leggiamo questa attenuazione in favore di un contenimento di una più matura capacità di sopportazione di tolleranza del pregiudizio che può condurre all'indifferenza del diritto visto non come scarsità o mancanza di tutela ma come uno spazio di libertà se si elevano consenso sulla base di consensi maturi i livelli di sopportazione delle lesioni della sfera individuale delle organizzazioni o degli stati cresce anche la libertà di chi magari fino a qualche tempo prima veniva considerato un offensore un esempio del primo tipo lo vedremo domani è il terrorismo in cui c'è una legislazione del nostro Stato e si va formando una legislazione comune all'interno dell'Unione Europea che sta codificando le prospettive risarcitorie ed è un punto di conquista con altri limiti che saranno scoperchiati in quella sessione laddove l'interrogativo riguardi l'eventuale chiusura del percorso e cioè il fatto che forfettizzando i danni da terrorismo gli stati chiudono il discorso sul rischio e quindi lo allocchino come costi comunque da dover sopportare senza occuparsi di altre politiche disincentivo degli altri terroristici dall'altro e quindi esempio di una possibile ritrazione della sfera di protezione giuridica senza che ciò significhi una minore valenza di tutele sono alcuni danni alla persona anche della circolazione stradale o danni conseguenti alla vita di relazione abbiamo detto moneta e risarcimento del danno in questa prima rassegna che è un po' l'anticipazione di tutta la vicenda che spero molti di voi vogliono vivere con noi in questi tre giorni in realtà cominciati già ieri sera con la proiezione del nostro docufilm Debitri Contro Crediti vorrei iniziare a interloquire con anzi voglio interloquire con il professore da crema Pierangelo da crema ovviamente lui ne fa le spese adesso ma i loro profili chi sono e perché sono qui sono già nel libretto che avete a disposizione i ringraziamenti sono già stati fatti e sarà poi la vostra attenzione la migliore misura della loro sincerità si era detto critica la critica all'economia monetaria intesa come pensiero strutturato trae spunto dalle crisi finanziarie dell'ultimo decennio questo per rinnovare il giudizio sul fatto che il danaro recchi con sé un'idea valore si dice è un giudizio storico di storicità c'è stato sì un'epoca molte epoche in cui il danaro ha acquisito un'idea valore e che poi è stata declinata nelle diverse monete e quindi si può dire che se il giudizio è storico non se ne può in astratto negare un possibile superamento allora le chiedo professore i costi elevati che è un tema che lei ha affrontato molto spesso i costi elevati degli apparati di conteggio di conservazione delle monete sono dal suo punto di vista di per sé sufficienti a convincere della minore progressiva minore utilità della moneta e oggi a cosa serve la moneta quale ricchezza realmente rimunera e distribuisce è possibile in altri termini immaginarla concepirla o renderla periferica anche rispetto alla grande questione planetaria delle disuguaglianze la domanda si oppone un grosso problema e la risposta rischia di non essere semplice diciamo che avvertire sottolineare l'abnormità dei costi della produzione e della salvaguardia del sistema della moneta è un punto di partenza un punto di partenza che molti si rifiutano di prendere in considerazione centinaia di milioni di persone che lavorano esclusivamente per la manutenzione del numero e questa è la manutenzione della moneta il corso della moneta io l'ho chiamata occupazione apparente in modo un po' provocatorio ma dato che viviamo d'altro di gesti di eventi di fatti producibili il mantenimento del numero purtroppo non produce nulla quindi non parlo solo di banchieri finanzieri cassieri parlo di tutti gli addetti alla contabilità del mondo che sono destinati a non produrre nulla di direttamente fruibile ma non basta appunto la domanda è basta questo per mettere in crisi il sistema della moneta no ci sono delle tendenze in atto e sono tendenze abbastanza visibili in sintesi potrebbero insomma un po' impropriamente essere chiamati tutti questi elementi una tendenza alla demitizzazione alla democratizzazione dello strumento sono sintomi che si muovono in netto contrasto con una necessità ineludibile della moneta che è quella di mantenersi preziosa di affidarsi a strumenti di creazione a processi di creazione di distribuzione molto riservati voglio dire l'atteggiamento opposto è trattarla come l'acqua che ha un enorme valore d'uso e dire il denaro la moneta è indispensabile come l'acqua allora che la diamo la diamo a chiunque darla a chiunque significa darla a tutti e questa tendenza è in atto faccio degli esempi per esempio molte voci in Italia ma non solo in Italia si levano contro le politiche d'austerità il reddito di cittadinanza è una mossa ufficiale contro le politiche d'austerità per contro cosa c'è? il mondo della moneta che si difende dicendo no tu hai un debito abnorme non puoi caricarti di un debito ulteriore per fare diciamo per accontentare tutti le criptovalute sono un attacco feroce contro la moneta ufficiale al punto che non rispettano la definizione di moneta che richiede in sé insomma per essere tale una sorta di imprimatur di un sovrano di uno stato di un fatto di un'autorità pubblica la crisi dei suprime ha la stessa origine diamo il denaro diamo credito a chi a tutti coloro a cui le banche dati i loro canoni di comportamento in termini di valutazione ed affidabilità non hanno mai dato denaro lo diamo a chi tra virgole non lo merita ai diseredati ai disoccupati ai sottoccupati ai non ambienti cos'è successo? è successo quello che abbiamo visto cioè politicamente la mossa al di là del fatto che era necessario reagire al crollo delle torri e all'implosione della bolla della web economy il crollo insomma del Nasdaq politicamente era diamo a tutti la possibilità di realizzare l'American dream ecco cos'è successo? è successo un pasticcio è successo un pasticcio perché le forze del mondo del denaro sono entrate in campo prepotentemente per lasciare per dire c'è stata una crisi che ci avverte di quanto il denaro abbia bisogno di attenzione di cura un'ultima considerazione in materia qualcuno ha fatto due conti il TARP TARP è il Trouble Asset Relief Program è costato 700 miliardi di dollari per muovere una leva pare calcolata in 2000 miliardi di dollari se questo denaro che è stato dato alle banche affinché si risanassero fosse fa ridere la cosa fosse stato dato agli individui indebitati con le banche questi individui si sarebbero tenuti le case avrebbero dato il denaro alle banche risanandole e tutto sarebbe tornato a posto voglio dire banche risanate individui con le case ma c'è stato un ma non si è seguita questa linea di comportamento perché perché poi alla fine ha prevalso il principio del nessun pasto è gratis il denaro si salva all'insegna di questo principio ora però questo principio per rispondere alla domanda è messo in crisi se ne sta finalmente discutendo quindi ad Angela Condello chiederei di continuare questa digressione e gli studi della filosofia hanno messo in evidenza o perlomeno gli studi che ha seguito molto avveduti in collegamento con altri esperti e filosofi importanti gli studi che ha seguito la dottoressa Condello hanno messo in evidenza una caratteristica del denaro che ha bisogno diremmo per inverare la sua portata di valore di tradursi in documentalità quindi la nozione resta astratta se il denaro potremmo dirlo in modo più semplice non si fa moneta quindi attraverso dei segni e questo come testimone l'abbiamo ricordato la lunga evoluzione dell'economia dal baratto a quello dello scambio e poi gli scambi a distanza soprattutto questa a distanza temporale e spaziale in questo la nozione di denaro valore di scambio si è accompagnata anche a quello di bene in sé non lo utilizzo ma lo accumulo quindi diventa una ricchezza autonoma rispetto a quelle più tangibili e tradizionali una ricchezza accumulabile misurabile per sue quantità anche se resistente a un immediato utilizzo chiedo alla dottoressa Condello in una prospettiva attuale attualissima di smaterializzazione della moneta quali sono i segni attraverso i quali si potrà riconoscere l'esistenza del denaro dunque la relazione fra materialità e immaterialità e quindi questa che giustamente Massimo Ferro ha tradotto attraverso la dicotomia tra denaro e moneta quindi la sua declinazione poi concreta il punto è che in realtà oggi quella che lei ha definito smaterializzazione e quindi appunto il tema delle criptovalute l'utilizzo dei bitcoin il fatto che sempre di meno si paghi come si pagava una volta quindi sempre più raramente in realtà si abbia in tasca come dice questo libro di Walter City si abbia in tasca quel contante che invece una volta ogni 27 del mese si tirava fuori per fare delle spese quando si ritirava lo stipendio quindi bisogna anche intendersi cosa si voglia dire con immaterialità ci sono tanti piani dell'immaterialità una più diciamo che riguarda la fenomenologia della vita quotidiana e una che invece questa che appunto riguarda le criptovalute questa dimensione incontrollata in cui appunto il denaro invece cresce e il cui valore appunto aumenta una cosa che è emersa in questo lavoro appunto di confronto fra due voci importanti della filosofia diciamo dell'ontologia sociale che appunto tra Serle e Ferraris è la la persistenza di un elemento appunto nel denaro che è quello della traccia che nominava appunto il dottor Ferro cioè sia nella sia nel diciamo a partire da dopo il baratto quindi a partire dall'economia dello scambio nel momento in cui lo scambio viene astratto viene spostato su un altro piano e quindi in qualche modo la moneta circola circola prima insieme al mercante poi sempre di più con tutte le varie declinazioni del capitalismo diventa esce un po' dal controllo del soggetto cioè il soggetto ne dispone però ne dispone in quel contesto e poi però in un certo senso l'oggetto sociale denaro vive di una vita propria già nel capitalismo finanziario ovviamente lo vedremo anche dopo con Emanuele Zinato questo elemento di in qualche modo vita indipendente del denaro rispetto a questa traccia a questo segno che appunto il bitcoin di fatto mantiene quell'elemento di tracciamento dello scambio e quindi in realtà c'è una grande continuità tra quel colore e la tangibilità quindi l'elemento materiale del denaro e l'immaterialità il punto è comunque riportare se vogliamo dare una prospettiva anche a questi studi a questa domanda che ci poniamo riportare il tema sui due concetti che secondo me lei ha messo in evidenza molto bene prima da una parte quello della responsabilità e quindi appunto studiare davvero qual è l'elemento della tracciabilità degli scambi perché il problema dei bitcoin e delle criptovalute infatti si pone sempre insieme all'elemento blockchain e controllo quindi visto che il soggetto ha pochissimo controllo su questo viene delegato a una macchina il controllo diciamo l'elemento di garanzia in qualche modo di questa forma di transazione che è già complicatissima quando viene spiegata da un ingegnere ma insomma è veramente come se non ne disponessimo per cui ecco direi che l'elemento della traccia in qualche modo dà una grande continuità e credo che sia quello da indagare e spero che lo faremo anche dopo nel dialogo con un professore di letteratura invece riaffrontiamo il tema ancora del denaro partendo da quello che è stata l'impegno della letteratura del novecento che si è molto occupata e non solo nei romanzi industriali di cui il professor Zinato è attentissimo studioso e ricostruttore si è molto occupata del ruolo del denaro come forma di ricchezza autonoma più ambigua rispetto ad altre forme che sono tradizionalmente compendiate in beni tangibili come le terre già la stessa proprietà delle aziende in letteratura incrocia e non può non confrontarsi con gli istituti giuridici che ad esse si correlano e che aprono a situazioni appunto di titolarità sono abituati a dire giuristi ma anche nei romanzi più centrate sul potere potere di disposizione quindi decisioni su uomini merci materie organizzazioni che non sull'idea appunto del patrimonio potere sul patrimonio statico cospicuo e oggetto come molti romanzi di attenzione ereditaria attenzione la trasmissibilità diretta ecco il denaro esprime un analogo potere di spesa di acquisto di merci di acquisto di persone del tempo altrui ma non necessariamente di un cumulo fisico che sia riconoscibile come erano le terre in letteratura dunque la ricchezza monetaria che non a caso anche noi ancora noi oggi riesprimiamo attraverso la locuzione di liquidità può nascondersi ma quando si esercita è terribilmente potente probabilmente arriva per la sua grande velocità di conquista dove altre ricchezze storicamente non sono mai giunte oggi in un'epoca in cui l'abbiamo appena visto lo stesso denaro si fa in materiale e l'economia prima ancora si è finanziarizzata ecco qual è le chiedo la rappresentazione più corrente in letteratura di questa nozione indica o da addirittura aver presupposto senza più nessuna riflessione critica anche il valore reale degli individui delle loro storie collettive delle loro aggregazioni nella scala sociale si è arresa ad una nuova etica dell'acquisto con il denaro che è sempre possibile di ogni situazione personale e materiale diciamo portare in questa in questa occasione lo sguardo della letteratura significa ribadirne in qualche modo e verificarne la potenza cognitiva le classi dirigenti di questo paese in tempi ormai andati si formavano sulla letteratura da Dante a Manzoni e la consideravano spesso una risorsa linguistica una sorta di fiore all'occhiello formativo tutto questo appartiene al passato non significa questo che la letteratura non continui a dare nuovi sguardi profondi taglienti problematici che mettono in gioco gli immaginari ecco credo che anche a riguardo al denaro e al valore e al debito che sono i temi di cui tratta questo interessantissimo percorso interdisciplinare che avete strutturato credo che la letteratura intercetti una serie di bisogno di mappe e di destini un buon uso dei nostri destini in qualche modo questa è la premessa fondativa di quello che andrò a dire la domanda riguarda la resistenza o meno dell'immaginario letterario allo status quo monetario perché siamo abituati a considerare la letteratura come altro rispetto all'ordine socio-psichico in realtà la letteratura è profondamente immersa e ha capacità di restituzioni interessanti a partire da tutto il secolo che ci sarà alle spalle pensiamo a due immagini molto note la prima è un'immagine che riguarda la grande letteratura realistica dell'ottocento che ha fatto del denaro il tema dei temi da balzacca verga per intenderci ecco in verga in particolare il valore è roba è un valore fondiario è un valore di campi di ulivi di beni immobili pochi decenni dopo con Pirandello il valore denaro è il gioco d'azzardo in un casino a Nizza è cambiato tutto il modernismo quello di Pirandello di Svevo di Joyce di Kafka innova profondamente la capacità di tematizzare il valore già diventa immateriale perché una delle risorse della letteratura è quella di prefigurare cioè è come se fosse una piccola profeta in qualche modo disarmato il testo letterario il novecento già prefigura anticipa essendo profondamente industriale il novecento ma i testi letterari migliori anticipano la moneta smaterializzata che viviamo oggi con la capacità appunto rabdomantica prefigurante che è tipica dell'immaginario letterario questo per dire che tutto il secolo che ci sta alle spalle è una grande mappa interessante di immaginari monetari visto attraverso i testi letterari italiani europei e occidentali per venire brevissimamente all'epoca più vicina nel periodo attuale possiamo dire fine secolo il nuovo millennio per intenderci i testi letterari migliori dell'occidente da Don De Lillo negli Stati Uniti a Volponi in Italia sono testi che in qualche modo si fanno carico di unire la materialità della ricchezza con la smaterializzazione finanziaria hanno questo duplice sguardo strabico unendo insieme realismo e modernismo Don De Lillo per esempio scrive un libro importante Underworld che mette accanto cumuli di macerie con le torri gemelle ancora in piedi tanto per parlare di capacità prefiguranti e scrive anche un romanzo Players che riguarda Wall Street Volponi con le mosche del capitale Volponi è anche un avvocato si è formato giuridicamente è diventato poi un dirigente d'azienda importante dell'Olivetti e poi della Fiat rappresenta il mondo smaterializzato della finanza il mondo in preda diciamo ai flussi finanziari immateriali per cui credo che la letteratura non sia in qualche modo oggetto di resa nemmeno naturalmente di un impegno vieto dei tempi andati quanto di una grandissima capacità prefigurante e cognitiva secondo me grazie professore adesso avevo anticipato che mi sarei ricollegato ad un cenno esplicitato dall'assessore Lombardo con riguardo le iniziative in questa città ma il tema è più ampio l'economia che avevamo chiamato economia di carità la percezione dell'economia di carità discorso molto duro tema duro su cui contiamo però che il tempo dia ragione della necessità di una riflessione pacata e con la percezione dell'economia di carità intreccia e ne parliamo come cittadini una pubblica e corrente narrazione di micro pericolo o di pericolo periferico rispetto alle nostre vite contingente insieme a singole esperienze personali di difetto di ordine sentiamo che manca un ordine una protezione davanti alla frequente causale dell'ingaggio fastidioso con cui l'elemosina è rappresentata nelle realtà urbane mi riferisco in gran parte a queste ormai questa richiesta è quasi sempre congiunta ad una alterazione della velocità di atti di consumo cioè si interpone questa richiesta come un ostacolo a rendere più veloce la nostra vita di fruizione dello spazio urbano o anche di consumo vero e proprio dall'incontro al semaforo e quindi esperienza proprio di tutti alla guardiania del carrello del supermercato sino alla più tradizionale mano protesa sulle scanilate dei luoghi di culto o se volete l'offerta di lettura della mano comunque la causale della richiesta che ci viene rivolta come protagonista della vita urbana normalmente ottiene una risposta di rifiuto e questo è ovviamente un discorso avalutativo di rifiuto di tecnicamente di allontanamento o anche e qui veniamo al legame con il tema di frettoloso adempimento di un qualche ambiguo non riusciamo bene a capire perché debito solidaristico che riteniamo di avere da qualche parte contratto nella nostra educazione nella nostra etica o in quella situazione contingente questa è la puntellatura delle reti sommesse senza sbagliare ma proprio sommesse molto di secondo ordine della elemosina urbana posto che la monetina come valore metaforico più che assolvere ad un atto di autentica liberalità sembra appunto riaprire come anticipavo ricomprare gli spazi della scorrevolezza della vita sociale superando dei piccoli pedaggi le investigazioni giornalistiche per questo mi rivolgo a Lidia Baratta oltre che quelle giudiziarie di cui domani lei parlerà con il procuratore dei minori di Firenze San Germano e con le investigazioni giornalistiche aprono invece degli spaccati di esistenze sfruttate di destini di minori sottratti a dei percorsi educativi ordinari e spesso situazioni in cui proprio l'insistenza così fastidiosa così oggettivamente fastidiosa per l'intralcio che ho provato a descrivere della domanda di carità è funzione della intensità di sottoposizione di tali piccoli personaggi a vessazioni e a racket criminali messa così e la metto così l'opinione pubblica non accosta le due situazioni si infastidisce per la prima e nell'opinione pubblica ci siamo dentro tutti e si commuove quando apprende la seconda ma non le mette in correlazione chiedo a Lidia Baratta per quale limite di pubblica narrazione o errore di politiche di ordine pubblico urbano credo che il problema sia da entrambe le parti abbiamo un problema di narrazione quindi anche un problema di informazione giornalistica e un problema di politiche mi viene da citare a questo proposito l'intervista che il Papa concesse qualche mese fa a Scap de Tenis che è una rivista di strada alla domanda del giornalista che chiedeva è giusto Pontefice lasciare le lemosine il Papa rispondeva sì ma andiamo oltre il semplice gesto di porgere la monetina diceva guardiamo negli occhi tocchiamo con mano ora al di là dell'aspetto umano o religioso delle parole del Papa è evidente che rispetto a questo fenomeno appunto come stavamo dicendo servono più occhi in che modo di solito si reagisce rispetto alla presenza del mendicante dal punto di vista delle politiche di solito in maniera repressiva i famosi titoli di giornale stop e mendicanti sul sagrato delle chiese o all'interno di una piazza e noi come privati cittadini appunto come diceva Massimo Ferro abbiamo una duplice reazione quindi la reazione di adempiere al debito di solidarietà quindi la carità oppure il fastidio e quindi passare avanti perché servono gli occhi quindi mi ricollego alla frase del Papa serve consapevolezza perché poi le investigazioni giudiziarie prima e giornalistiche poi o il contrario alcune volte per fortuna ci portano a vedere una realtà che spesso va al di là del semplice gesto di dare e ricevere la monetina e quindi persone o addirittura minori che diventano essi stessi strumento per fare denaro quindi strumento a loro volta in molti casi per andare a ripagare loro stessi un debito e qui mi rifaccio soprattutto ad alcune nazionalità come emersi in alcune investigazioni giudiziarie per cui maggiore consapevolezza maggiori occhi e che quello che serve sia alla pubblica narrazione quindi alla narrazione anche giornalistica capacità di andare oltre i singoli fatti di cronaca unendo i puntini magari andando anche per strada guardando quello che ci circonda che ormai sembra far parte un po' della geografia delle nostre città del paesaggio delle nostre città e le politiche appunto oltre la carità oltre la repressione cercare di capire che cosa c'è dietro una semplice mano che chiede una moneta per questo invito a coltivare un po' di più il bisogno di informazione anche senza cambiare idea ma con dei dati nuovi grazie dottoressa Baratta uno dei pochi numeri che l'opinione pubblica conosce del codice penale e che non è tenuta a conoscere in misura ulteriore è il 416 bis quasi tutti sanno che è il reato che definisce nel nostro ordinamento le associazioni di tipo mafioso e che è stato nel tempo anche integrato sulla base di un formante giurisprudenziale che nel frattempo si è andato a determinare nelle aule di giustizia e anche di graduali molto lente ma comunque decise forme di progressione del sentire comune che cosa caratterizza da un punto di vista della descrizione della fattispecie normativa questo reato associativo il fatto che coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo della condizione di assoggettamento di omertà che ne deriva per commettere dei delitti e questo con lo scopo progressivamente ripeto arricchito perché la norma è nata in un certo contesto ma è stata allargata fino a ricomprendere ulteriori capacità di inquadramento nel concreto acquisire in modo diretto o indiretto se arrivate a scriverlo gestione o comunque il controllo di attività economiche e poi si è aggiunto concessioni autorizzazioni appalti e servizi pubblici questo per realizzare profitti o vantaggi per sé o per altri e poi si è aggiunto ancora più recentemente per impedire o ostacolare il libero esercizio del voto con il professore Rocco Sciarrone vorrei si discutesse brevemente in anticipo di questo ecco i tratti distintivi dell'associazione mafiosa che richiamano appunto nella legge e in giurisprudenza un metodo lo riassumo di nuovo minaccio intimidazione abbiamo appena detto assoggettamento omertà controllo dell'economia del territorio indirizzamento del voto un metodo che è una condizione perché il reatto possa dirsi nazionale e quindi non circoscritto di un fenomeno che lo discriminerebbe già sotto il profilo della ricognizione sociologica non a caso lo stesso legislatore all'articolo 416 bis l'ha chiuso denominando le associazioni ulteriori rispetto alla mafia quindi indrangheta e camorra ma poi ha aggiunto comunque queste associazioni che si vuole reprimere comunque localmente denominate anche straniere bene se questo assunto può dirsi oggi sempre più esteso lo impariamo dalle inchieste e dalle condanne perlomeno di Piemonte e Roma Capitale e in Emilia dalle inchieste perché il processo è ancora in corso le chiedo professore come può essere meglio e per meglio intendo più precocemente individuata la zona grigia che conduce un territorio a divenire ambito mafioso non ho detto territorio mafioso ma almeno ambito mafioso e quindi le chiedo come operano le pratiche economiche da un lato e dall'altro quelle politico amministrative in funzione anche solo oggettivamente quindi anche senza consapevolezza propedeutica a questo attecchimento allora come si diceva i mafiosi sono specialisti nell'uso della violenza io vi parlo da un punto di vista sociologico non sono un giurista sono specialisti nell'uso della violenza ma da sempre i mafiosi hanno un'altra competenza che possiamo dire ricade nella loro specializzazione sono specialisti di relazioni sociali gli scienziati sociali parlano di capitale sociale quindi una peculiarità delle organizzazioni criminali di tipo mafioso come sappiamo che le differenze ad altre forme anche pericolose di criminalità organizzata parliamo delle mafie vecchie e nuove perché questo è importante è il fatto di avere la necessità l'esigenza di instaurare forme di relazione con il mondo dell'economia legale della politica e delle istituzioni la questione mafiosa risiede questa è la la prospettiva che vi proporrò come chiave di lettura in questa in questa caratteristica quindi da un lato c'è la violenza ma fondamentale è da sempre e oggi forse più rilevante con l'espansione territoriale delle mafie nelle cosiddette aree non tradizionali diverse da quelle di genesi storica quindi parliamo dell'Emilia Romagna del Piemonte della Liguria della Lombardia e questa capacità di intrecciare relazioni di contiguità e di collusione che poi è la caratteristica diciamo peculiare anche della presenza delle mafie nelle regioni del centro del centro nord non è una presenza nuova anche se spesso nel dibattito pubblico come dire ce ne siamo accorti da poco ce ne siamo accorti da poco perché per esempio il processo Emilia che in questa città in questa regione ha portato alla luce come dire la presenza dell'andrangheta che però non è recente questo lo sapete ci sono delle novità le novità a mio parere stringendo in estrema sintesi è la maggiore presenza di questa criminalità organizzata nell'economia legale se c'è un elemento di preoccupazione è questo se posso dirlo in modo un po' grossolano è stata superata la fase dell'accumulazione ma siamo nella fase del reinvestimento che non segue il classico circuito del riciclaggio non necessariamente ci sono è stata richiamata prima l'area grigia si parla tantissimo di area grigia l'area grigia è questa espressione suggestiva in modo intuitivo riusciamo a capire che questa zona di mezzo il mondo di mezzo per esempio di mafia capitale in cui si sviluppano queste queste collusioni nell'intervento che faremo poi cercherò di spiegare perché è importante capire che cos'è dal mio punto di vista l'area grigia che cosa funziona mi limito qui ad anticipare che l'area grigia non è frutto di un'estensione dell'illegalità oggi il problema del nostro paese delle mafia non è tanto una mera estensione dell'illegalità c'è qualcosa di più preoccupante di più complicato che è una confusione tra legale e illegale ci sono processi di mescolamento e di bridazione tra legalità e illegalità che sono molto difficili da riconoscere individuare e quindi da contrastare questo è vero per le aree di insediamento storico delle mafie se vogliamo è ancora più rilevante per quanto riguarda le aree diciamo nelle regioni del centro nord per chiudere rispetto alla seconda parte della domanda come muoversi cosa innanzitutto imparare a riconoscere il fenomeno mafioso attenzione ma non solo il fenomeno mafioso perché l'area grigia non è solo fenomeno mafioso vedremo poi spiegheremo questo aspetto il problema sta nel rapporto oggi diverso tra economia e politica tra pubblico e privato tra mafia e corruzione sono due fenomeni diversi ma oggi sempre più intrecciati tant'è vero che anche la direzione nazionale antimafia parla di metodo collusivo corruttivo che va andrebbe a sostituire o è complementare rispetto al metodo diciamo mafioso basato soprattutto sulla capacità di intimidazione anche se le due cose si combinano insieme grazie grazie l'appuntamento è fra qualche ora quando con Diana De Martino il professor Sciarrone completerà una rassegna aggiornata dove verrà meglio e più affrontato l'interrogativo sul reato di corruzione come veicolo aggiornato sostitutivo del vecchio blocco sequestro minacce estorsioni proprio della mafia più tradizionale e allora con il prossimo interlocutore entriamo in uno di quelli che ho chiamato i due nodi i due eleganti di questo festival il perimetro del chiamiamolo pure territorio del risarcimento del danno che si allarga a sempre più frequenti situazioni parliamone prima con un economista il professor Ricci con sempre più frequenti situazioni meritevole di tutela un linguaggio anche molto scontato nei giuristic ma crescono crescono anche al suo interno va raccontato come isole delle zone che si emancipano in realtà dalla tradizionale nozione di debolezza o soggezione quindi sfuggono ai cataloghi di protezione questo è un po' nel nostro mondo giuridico nel pensiero economico è costante la costruzione della felicità che è una possibile variante evoluta del benessere individuale e anche delle organizzazioni sociali e quindi il pensiero economico ragionano così loro anche gli ostacoli alla realizzazione della felicità sono riprovevoli e dunque rappresentano fattori che in qualche modo esigono una loro rimozione e prima ancora una loro contabilizzazione un potenziale per quel che ci interessa debito verso chi li determina chiedo al professor Paolo Ricci ma che relazione si instaura tra la felicità e il benessere economico come si danneggia se mi passi l'espressione la felicità e quanto costa risarcirla la domanda per te che l'hai studiato e l'hai anche forse coniata come espressione esiste una economia della felicità la domanda è complessa diciamo che nell'economia nell'economia si è sempre stata una grande attenzione sul tema della felicità oggi il tema è tornato di grande attualità e c'è una sua centralità dovuto al fatto che ci sono state delle rilevanti trasformazioni sia di comportamento nel comportamento nei consumi prima quando tu parlavi diciamo dell'accumulazione del capitale da un lato ma anche del debito dall'altro riflettevo sul fatto che la felicità poi ha la caratteristica di non poter essere accumulata e quindi basta un istante per viverla e basta un istante per perderla e quindi il tema si intreccia bene sulla sua risarcibilità cioè sulla possibilità del fatto che venuta meno una condizione di esistenza dell'individuo forse la principale anzi uno dei suoi destini principali poi si pone il problema prima chi deve costruire la norma e poi chi la deve applicare di come sia possibile ricostruire certe condizioni lo hai fatto anche in un'altra occasione oggi quando in qualche maniera parlavi dell'ambiente parlavi di quello che possiamo chiamare capitale naturale cioè quel capitale che appartiene a tutti e che è un'altra delle condizioni della felicità il tema però che gli economisti si pongono è se è possibile riflettere più in termini di felicità collettiva piuttosto che di felicità individuale i BES ad esempio questi indicatori che sono stati per la prima volta l'anno scorso quindi per il 2018 relativamente al 2017 messi in campo dal MEF dal Ministero dei Comuniti e Finanze fa una riflessione per la prima volta ponderata con numeri con dati sul benessere economico sociale e quindi sul benessere collettivo sul benessere di tutti quindi mentre abbiamo grandi difficoltà oggi ma l'abbiamo sempre avute a comprendere cosa sia la felicità individuale se questa è contabilizzabile se è valutabile abbiamo invece tentativi interessanti e seri sul benessere collettivo sulla felicità collettiva questa si chiamerà economia del benessere si chiamerà economia sociale economia civile economia della felicità insomma è quell'attenzione e ci sono filoni di studio molto interessanti sempre più concentrata sulle funzioni che lo strumento impresa può avere per migliorare le condizioni di vita del cittadino dell'uomo comune devo dire che le riflessioni di Zinato tra l'altro mi spingevano a riflettere su un bel libro di Alan Bennett che si chiama Nudi e Crudi per chi non l'avesse letto è una lettura che consiglio dove si estrinseca bene il concetto di felicità individuale e la sua impossibilità di risarcibilità per alcuni versi questa coppia perde ritornando a casa trova tutto tutto derubato praticamente svuotata l'intera casa ma non svuotata di qualche oggetto denutata completamente cioè non trovano nulla in questa casa e quindi si pongono la domanda di dover ricostruire le condizioni della loro esistenza per un tratto pensano di aver perso la loro felicità perché hanno perso i loro beni le loro cose i loro oggetti tranne per il finale che è sconvolgente il marito morirà lei troverà una nuova vita c'è una fase nella quale si comprende è sconvolgente perché l'attesa del libro è un'altra il finale è un altro ancora quindi questo è l'elemento di interesse e poi dietro questa tragedia c'è l'elemento interessantissimo per cui interviene la compagnia assicurativa dobbiamo risarcire questo danno come lo dobbiamo risarcire addirittura c'è quello che loro chiamano incomodo cioè il fatto che devono ricostruire e mettere insieme nella loro abitazione però in questa scusate poi non lo comprendete non lo leggete in questa tragedia di questa famiglia si legge però il fatto della condizione di un evento che apparentemente è dannoso ma che è in grado di generare per un verso anche dei benefici ecco questa è la complessità della felicità individuale di cui l'economia secondo me si può occupare sempre meno e di cui invece l'economia ha bisogno per mettere al centro dei suoi interessi la persona e domani spero che con Massimo Franzoni nel nostro dialogo riusciremo a interloquire su questi aspetti grazie per ora vi tengo e vi teniamo separati ed è con lui che continuiamo questo ragionamento quindi teniamo separati l'economista dal giurista l'abbiamo già anticipato Massimo Franzoni sono temi che ha affrontato molto molto approfonditamente da molto tempo si rafforzano le ragioni è stato detto spesso nel nostro ordinamento le ragioni che spiegano perché non tutti i danni non tutti i danni specie quelli alla persona sono risarcibili nonostante tutti gli ordinamenti nessuno vi rinuncia abbiano delle clausole generali che aprono la possibilità di ospitare per questa via di minore dettaglio forme di tutela situazioni soggettive appunto di nuovo conio che prima si muovono prendono forma si sostanziano nel sentire comune e poi arrivano al diritto la giurisprudenza ugualmente risponde rinvenendo fissando dei limiti lo sanno bene gli avvocati che praticano queste materie o i consulenti anche non di formazione giuridico-economica come anche i consulenti del lavoro oltre ai commercialisti lo praticano quindi tetti tabelle self-restraint autoresponsabilità che escludono grosso modo l'apprezzabilità ancora a monte di situazioni soggettive la cui lesione la cui alterazione anche se reca uno squilibrio per chi ne sia titolare giunga a concretizzarsi in una pretesa risarcitoria insomma il territorio del danno subisce da molte parti assalti per una sua restrizione una sua delimitazione ci sono poi anche leggi che normalizzano la vicenda dannosa provocandone una riqualificazione quindi la smontano insomma smettono fanno dismettere i legami interni che la condurrebbero invece a vantare un credito ci sono infine ragioni di tenuta delle relazioni tra individui perché non ogni contatto fastidioso è un pregiudizio non ogni forma di invasione la sfera altrui è un pregiudizio risarcibile crea lite e quindi indennizzo barra risarcibilità o comunque ci sono aspirazioni a forfettizzare i danni del nostro agire in modo tale da poter proseguire la nostra vita come individui come collettività organizzate e anche in parte come stati laddove ci siano compatibilità di bilancio pubblico chiedo al professor Franzoni si proteggono per questa via se questa è un'interpretazione di direzione si proteggono meno i diritti e questa evoluzione gli chiedo corrisponde ad una sorta di irreversibilità del passaggio dalla libertà alla sostenibilità compatibilità eh presidente questa è una bella domanda se io sapessi rispondere a questa domanda sarei poi qua con voi a parlarne ragioniamoci è una domanda affascinante nessuno sa immaginarsi se il risarcimento del danno tutelerà di meno di più dei diritti un dato sul quale riflettere però è inevitabile ed occorre farlo insomma questa stagione del risarcimento del danno della responsabilità civile è stata una stagione che per certi versi è stata molto simile a un pezzo di storia d'Italia che possiamo fare incominciare con il boom industriale che attraverso lo sviluppo ha fatto crescere tutto e con il boom industriale si finanziava tutto e per tantissimo tempo si è avuto l'impressione che non ci fossero limiti era soltanto un problema di scontro politico come ridistribuire ma sul fatto che le risorse ci fossero non veniva messa in discussione questo è stato negli anni 50-60 la storia della responsabilità civile comincia un po' più traslata cioè questa vicenda qua incomincia negli anni 70 negli anni 70 ci si accorge che i danni non sono soltanto i danni alla proprietà e che la responsabilità civile può essere adoperata per amministrare la ripartizione di risorse in modo diverso da come tradizionalmente era sempre stato fatto ed è iniziata la crescita tornando per flash alla storia d'Italia negli anni 70 ci si è accorti che non lo sviluppo poteva poteva fare sviluppare la società ma il debito poteva fare sviluppare la società ed è iniziato il grande indebitamento dello Stato attraverso il quale c'è stata una diversa distribuzione delle risorse nella responsabilità civile questo fenomeno per traslato è incominciato si è avuta una coscienza vera di questo fenomeno è iniziato negli anni 90 negli anni 90 ci si è accorti che il danno non era soltanto patrimoniale il danno al patrimonio ma che il danno poteva essere il risarcimento del danno poteva essere anche dato alla persona al di fuori della sua capacità di produrre il reddito e questa è stata una grande esplosione come del resto è avvenuta poi per lo Stato noi abbiamo un debito pubblico che non è che non scherzo ma anche nella storia della responsabilità civile noi abbiamo avuto un PIL chiedevo al professor Ricci ma il risarcimento del danno è il PIL lui si è messo mai nei capelli mi ha detto ma no non è il PIL il PIL è il reddito risarcimento del danno mica il reddito quindi non lo puoi considerare però ipoteticamente pensando al PIL che la responsabilità civile ha avuto dagli anni 90 in poi abbiamo avuto un PIL che è cresciuto enormemente all'attualità che cosa è successo e l'attualità e con questo chiudo naturalmente l'attualità la farei coincidere con una data che lega i due mondi il 2008 l'Iman-Brasa la crisi l'importante crisi che ha stravolto e insomma nel 2008 ci si è accorto che queste risorse erano esaurite e si è cominciato a parlare in modo importante di spending review il paradosso ho incominciato a sentire parlare non espressamente ma per traslato di spending review anche nei convegni dove si parla di responsabilità civile si è incominciato a porre il problema che tutti questi risarcimenti erano un po' troppi si è addirittura cominciato a dire che in Europa risarciscono meno che da noi quindi noi non è che possiamo inventarci tutta una serie di cose e allora si tratta adesso di trovare quel sottile equilibrio che se riusciamo a trovarlo ma del resto come dice il maestro la vita è un brevido che vola via è tutto un equilibrio sopra la follia sopra la follia grazie allora entriamo in un vivo in un vivo molto molto conosciuto anche se molto ostico proprio della responsabilità civile lo facciamo con un avvocato presidente già presidente del Consiglio dell'Ordine di Padova su un tema nel quale ci sarà un'interlocuzione tra il giurista e un anatomopatologa quindi mettiamo a confronto due saperi distanti ma che spesso si incrociano proprio nel cantiere dell'elaborazione giudiziaria qui parliamo di un progetto di una programmazione di un desiderio che si fa progetto e si fa poi programmazione quello alla vita secondo un modulo biologico più tradizionale ma si potrebbe replicare questo focus anche con riguardo a un qualunque progetto di inclusione nella nostra vita bene parleremo del fallimento di questo desiderio progetto programmazione e quindi del suo insuccesso e quindi al contempo la deviazione negativa di un desiderio frustrato con la sua non realizzazione sto parlando di una vita concepita desiderata progettata programmata la sua non realizzazione trova ostacoli trova ostacoli in generale nei limiti dell'applicazione scientifica in perimetri normativi pubblicistici gli umani non sono ancora dolli la pecora dolli e anche negli errori tecnici della cooperazione umana responsabilità sanitaria di questo stiamo parlando ecco allorché la pretesa ad una vita per come attesa attesa secondo questo iter che ho provato a descrivere resti insoddisfatta insoddisfatta sotto il profilo delle aspettative di conformità perché queste sono che sono state desiderate progettate e programmate ha senso chiedo all'avvocato Locatelli parlare di un inadempimento nella relazione contatto sociale negozio lo possiamo chiamare in molti modi con l'attività sanitaria e chi è che può dirsi danneggiato chi ha coltivato questo progetto o chi o il nuovo essere umano allora grazie innanzitutto poi deve finire questa storia che io parlo sempre dopo Massimo Franzoni lui cita Vasco Rossi ma io potrei citare Ligabue con una vita da mediano esce Messi entra Skriniar il pubblico il pubblico se ne accorge un buon giocatore un buon difensore ma il trequartista è lui allora io ero indeciso quando mi è stato chiesto di parlare di questa cosa di discutere con qualcuno se chiamare un medico legale un avvocato un altro avvocato magistrato o addirittura un filosofo perché si vanno a toccare anche questioni e situazioni in cui la filosofia ma anche la sociologia e l'economia hanno dignità di esistenza e di discussione io penso che viviamo in una società di programmi noi dobbiamo programmare tutto ma non lo sta dicendo solo la giurisprudenza ce lo dice ormai anche il legislatore quando fa riferimento ai programmi e alle linee guida hai fatto bene il tuo lavoro andiamo a vedere se hai seguito ma io faccio il medico andiamo a vedere se hai seguito i protocolli come il pilota col check quando deve partire e questa tendenza a programmare tutto che cos'è? la tendenza ad evitare i rischi non sto qua a discutere la differenza tra rischi e pericoli se ne occupò l'Human un bel po' di anni fa però nella programmazione della vita c'è proprio questa valutazione allora io che cosa programmo la donna cosa programma programmo che mi laureo poi programmo che farò un inizio di carriera poi però dovrò avere anche dei figli e nel programma dei figli metto stop all'anticoncezionale e decido di avere un figlio il figlio arriva il figlio non arriva non arriva come lo volevo io e questo è uno dei temi fondamentali cioè l'omissione per esempio è uno dei temi di cui siamo occupati di cui parleremo domani cioè l'omissione del medico che consente la nascita di un figlio sbagliato non come volevo venisse ad esistenza sindrome di down non riconosciuta quindi pregiudizio della gestante al diritto dell'avorto nascita del figlio ha senso parlare di inadempimento questa è la domanda ha senso ce lo sta dicendo la giurisprudenza da tanti anni trattasi di inadempimento perché qua l'errore quello che una volta si chiamava errore diventa illecito l'illecito dà diritto in poche parole dà diritto ad un credito la nascita di un credito e quindi al risarcimento e chi è il soggetto che ha diritto a questo risarcimento la madre senz'altro e poi la giurisprudenza ha detto beh ma insomma il padre non è che lo possiamo lasciare proprio proprio da parte i fratelli e anche i fratelli i fratelli che verranno e anche i fratelli che verranno forse finché non ci si è posti la domanda più grande di tutte ma il bambino down o comunque malformato ha diritto anche lui a chiedere un risarcimento proviamo a pensare ha diritto anche il frutto del concepimento che è venuto alla luce e proprio per questo fatto ha diritto a chiedere un risarcimento e dire io avevo il diritto a non nascere e qua si apre un oceano di discussione che ancora adesso dopo tanti anni che mi occupo di questa materia qualche brivido me lo fa venire e che cercherò domani la scelta è andata più sul tecnico quindi su un medico legale che è la professoressa Aprile che domani mi accompagnerà in questo discorso ma come ho detto prima prima ho visto che c'è una filosofa seppur del diritto è un argomento che potrebbe toccare veramente infiniti confini grazie grazie avvocato e con l'ingresso molto specifico in un campo apparentemente contiguo rispetto alla patrimonialità terminiamo la nostra intervista collettiva mettendo i piedi ancora più dentro quella vasta rete di relazioni interpersonali da quelle affettive a quelle altre proprie di contesti fondati sulla solidarietà che si costruisce si regge sull'elemento decisivo della volontarietà entriamo nel campo delle relazioni interpersonali in cui non ci sono obblighi giuridici c'è una assunzione almeno iniziale di spontaneità si può decidere di non farlo o di non farlo è una nozione che direttamente si salda quella della la tipologia delle prestazioni esigibili che siano di natura dicono i giuristi non immediatamente patrimoniali quindi non coercibili questo insieme di relazioni su cui oltre quelle propriamente codificate come vedremo poi nel successivo intervento sono molto vaste sono molto ampie le stiamo cercando di ricondurre a genere queste stesse relazioni chiedo al primo filosofo Graziano Lingua nello strutturarsi e anzi per poter funzionare per quanto si fondino su prestazioni volontarie e su prestazioni non esigibili per poter funzionare hanno necessità di organizzare lo scambio di prestazioni ci mettiamo in quattro ci diamo un progetto tipo insolvence fest nessuno di noi è obbligato a farlo non è un lavoro non ci assumiamo a vicenda da attore di lavoro e prestatori ma ci prendiamo degli impegni a poterci vedere il giorno dopo a creare determinati contatti ad organizzare una filiera che dal comitato passi ad altre persone interessate a reperire sostegni di ogni tipo per poter rendere possibile ma nessuna di queste prestazioni è dedotta all'interno di un contesto lavorativo o di prestazioni patrimoniali sono tutte frutto di volontarietà e di non coercibilità in quanto non esigibili però queste stesse relazioni per strutturarsi e quindi proprio per poter funzionare hanno necessità indispensabilmente di organizzare lo scambio tra di esse e quindi prima ancora il loro utilizzo il loro utilizzo atteso all'insegna di che cosa? Di profili che li facciano entrare nella doverosità nella esigibilità cui però il diritto non presta assistenza proprio perché sono nate dalla volontarietà e quindi il diritto ne sta fuori si limita in qualche misura ad assecondarne i perimetri cioè impedisce che subentrino dei fattori di obbligo a contenuto non patrimoniale questo è il tema questa assenza questa distanza restituisce però un'apparente contraddizione perché? Perché lo stesso ordinamento giuridico riavvolge il film di queste relazioni quando sono esaurite e valuta ritroso come quella solidarietà si sia manifestata secondo quali apporti secondo quali aspettative e quindi finisce dopo con il conferire un valore o un disvalore a quelle prestazioni al punto da sostituire la dimensione della indifferenza a quello della tutela giuridica verso delle situazioni in cui le relazioni volontarie siano cessate chiedo a Graziano Lingua qual è la contraddizione di questo passaggio la sola migrazione dall'etica della libertà autodeterminazione gratuità quella della responsabilità doverosità eterolimitazione non so se esista una vera e propria contraddizione in questo certamente c'è un elemento fondamentale queste relazioni non coercibili queste relazioni che non si riducono a degli scambi di equivalenti sono le relazioni fondamentali della nostra vita cioè fanno parte di quel pezzo della vita senza cui non possiamo vivere quindi non possiamo in qualche modo far sì di contrapporle in modo così netto con le relazioni che invece agiscono sugli scambi perché in fondo è il vecchio problema che la filosofia ha trattato sotto il titolo scambio dono gratuità del dono e invece calcolabilità equivalenza dello scambio io credo che tutte le relazioni sociali che noi viviamo siano in fondo delle relazioni miste quindi che hanno un po' di questa dimensione del dono magari con una proporzione molto ampia quindi di gratuità di volontarietà ma che contengono dentro di sé anche sempre un elemento di scambio che poi produce una forma di obbligazione che produce una forma appunto come dicevi tu di passaggio alla responsabilità quindi io non vedrei tanto un problema di contraddizione piuttosto di rischio che si creino dei cortocircuiti per cui tante volte noi viviamo determinate esperienze appunto sulla linea della pura gratuità non accorgendoci degli elementi invece di scambio di responsabilità che innesca anche la pura gratuità io sono contrario all'idea che esista questa postura del gratuito spesso la nostra tradizione culturale ci ha un po' spinto a pensare che il gratuito è etico e invece lo scambio di equivalenti dove entra in gioco in qualche modo il calcolo di ciò che facciamo non sia etico ecco questa contraposizione questa polarizzazione non credo che sia il modo per cogliere esattamente l'elemento perché alla fine poi esacerbando così la polarizzazione un gratuito totale non esiste mai per cui non sono autore come Derrida dice il dono puro non esiste e allo stesso modo uno scambio di equivalenti che unicamente ridotto al calcolo sarebbe una forma disumana di relazione sociale penso che il giusto equilibrio sia cogliere o analizzare questi problemi pensando al fatto che appunto le relazioni sociali sono miste e che possono entrare in cortocircuito a queste due dimensioni questi due livelli ma non sono per forza in contraddizione anche per lo stimolo a ripensare ad un antico modo di avvicinarsi al diritto per cui il dovuto è giusto se una parte del dovuto è giusto riflettiamo nei termini di attualità con Eligio Reista che molti hanno potuto gustare il termine scelto ieri sera alla prima nazionale del nostro film Debiti contro Creti Eligio è stato un po' scusate se scindo il nome dal cognome ma è un debito d'affetto che mima un po' la relazione su cui staremo dopo ma Eligio è stato un po' il padre putativo inconsapevole perché non ha chiesto nulla come suo costume ma con una grande generosità ci ha reso possibile davvero trovare una cerniera tra le tante cose sparse e anche un po' disordinate che abbiamo fatto in questi anni se avete occasione frequentate quel film attraverso quello apprezzerete anche la persona a cui mi rivolgerò fra qualche attimo Graziano Lingua con Graziano Lingua abbiamo parlato di relazioni interpersonali con il filosofo Eligio Resta entriamo nel campo delle situazioni affettive quindi una specie delle relazioni che sono come sappiamo tutte ormai e sempre di più giuridicamente qualificate oggi il campo delle situazioni affettive che il diritto codifica è più vasto e quindi va ben oltre quelle di parentela ovvero matrimoniali il diritto codifica all'interno di tutte le altre nuove che anche nel nostro ordinamento sono venute ad esistenza doveri di assistenza morale di rispetto di reciprocità emozionale lasciamo da parte quelli più economici di sostegno e di mantenimento e però il diritto lascia che siano le persone libere a determinare i modi con cui queste prestazioni siano svolte quindi il diritto lascia che siano le persone a determinare i canali di scambio evitando di imporre le modalità le tipologie delle prestazioni non patrimoniali spesso non le impone dice che ci sono ma non si occupa di individuarne in concreto le caratteristiche lo stesso diritto tuttavia l'abbiamo visto prima si interessa delle stesse vicende quando quelle prestazioni quelle citate prestazioni non patrimoniali che di regola non sono coergibili immaginiamo appunto a delle unioni che vanno dall'unione civile della Cirinna fino al matrimonio non siano state erogate e così trapiantando questo fa il diritto quelle prestazioni non patrimoniali in una nuova nozione di violazioni e quindi di violazioni di obblighi di natura questa volta patrimoniale che si sostituiscono a delle relazioni che sono affettivamente prima ancora che giudicamente esaurite quindi il diritto si interessa per la prima volta di una nozione che è prossima o peculiare a quella di inadempimento e quindi è uno dei molti casi di trasformazione operata dal diritto sulla realtà trasformata in modo artificiale oppure chiedo e lì gioresta il diritto c'è in realtà anche negli spazi che noi crediamo siano di libertà che nella vita noi riteniamo che siano autentici se sono densamente popolati dai nostri errori se noi siamo liberi di sbagliare a mancanze assenze approssimazioni nelle prestazioni affettive lo facciamo anche perché pensiamo che non ci sia sanzione e prima ancora che non ci sia osservazione del diritto e quindi ti chiedo come l'evoluzione del diritto delle persone può allora conservare una libertà di autodeterminazione e nello stesso tempo anche tutelare i soggetti deboli nel campo dell'affetto esiste poi una debolezza nelle relazioni affettive una bassa intensità come limite che di per sé fondi poi una distanza un merito a tenere fuori il diritto io parto da una piccola locuzione che è venuta spontanea Massimo ha parlato di sostituzione questa è una chiave di volta che dobbiamo tenere presente perché quando il diritto spesso anche in maniera sacrosanta entra nell'ambito delle relazioni persino affettive deve sostituire è la logica degli equivalenti ed è un problema quasi paradossale che il diritto si porta da sempre nel mondo quando deve con la frase argomentata del diritto deve fare i conti con una frase affetto quale affetto può essere costretto quale affetto può essere sanzionato guardate sbagliamo se non ripartiamo da una natura paradossale del diritto il diritto che dice che dobbiamo volerci bene è una double bind un doppio legame ti dice che come se io dicesse mio figlio devi essere sincero capite il codice linguistico del diritto è un codice linguistico che parla in maniera totalmente diversa dalla logica degli affetti ma la necessitas la nanche il bisogno di trovare rimedi questa è stata già sempre la chiave rivolta del modo in cui il diritto ha finito per occuparsi anche degli affetti finisco subito ma noi oggi dobbiamo fare ancora i conti col vecchio dilemma aristotelico da aristotele in poi non si è fatto un passo avanti aristotele diceva che dove c'è filia affetto amicizia bontà non c'è bisogno di giustizia ma dove c'è giustizia ci sarà sempre bisogno di filia di affettività forse Kant aveva colto questo passaggio e non a caso aveva raccomandato di litigare con amicizia grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti